Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Federico Fashion Style, apprezzatissimo parrucchiere dei VIP e personaggio TV, ha parlato del difetto fisico che lo ha convinto dopo 15 anni ad operarsi Una foto lo ritrae sul letto d'ospedale.l'amato volto VIP ha raccolto il consenso del pubblico con la sua simpatia ed anche con il suo essere eccentrico L'eccellenza nella sua professione lo ha portato ad essere il parrucchiere dei VIP Federico Fashion Style è un uomo sempre sorridente, curato e sicuro di sé che giocando con l'ironia ha saputo conquistare il pubblico televisivo italiano Dal 2019 è entrato a far parte del mondo della TV e da quel momento è sempre stato molto ricercato Di recente ha fatto preoccupare i numerosissimi fans che lo seguono su social Questo perché è stato assente per diverso tempo e normalmente, è molto attivo Di cosa si tratta? Federico Fashion Style e il difetto fisico inaspettato Federico Fashion Style ha deciso di lasciare gli studi a 13 anni per andare a lavorare nel negozio di parrucchieri di un amico del padre A soli 18 anni ha aperto i suoi primi negozi ad Anzio, suo paese natale Successivamente ha aperto a Milano poi anche in Sardegna Una passione che coltiva aggiornandosi continuamente e sperimentando nuove tecniche e idee personali Con dedizione il noto parrucchiere è arrivato ad acquisire notorietà ed è diventato poi il parrucchiere ufficiale dei VIP Ha sempre nutrito una certa curiosità e propensione verso il mondo dello spettacolo e nel 2019 ha cominciato l'avventura a Real Time conducendo il programma Il Salone delle Meraviglie Dopo questa sua prima esperienza è diventato una celebrità televisiva e ha cominciato ad essere super ricercato nei salotti televisivi, come per esempio da Barbara D'Urso Ha partecipato anche a Ballando con le stelle ed è stato opinionista alla pupa e il secchione Il parrucchiere classe 89 ha rivelato al suo pubblico, preoccupato di non vederlo da un po' di tempo sul social, di star essersi operato per un difetto fisico che lo metteva a disagio da moltissimi anni Qualcosa di inatteso dato che ha abituato il pubblico a vederlo sicuro di sé Sapete di cosa si tratta? La spiegazione dal letto di ospedale Federico Fashion Style ha spiazzato tutti i followers mostrandosi sul letto di un ospedale e dichiarando poi di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico I fan possono stare tranquilli si tratta di qualcosa che ha scelto di fare e non per via di una necessità medica Il noto opinionista ha spiegato di essersi finalmente deciso ad esaudire un sogno Ci ha pensato 15 anni poi, però, ha deciso di procedere in quanto la pelle superflua sull'addome, causata da un vecchio dimagrimento, lo rendeva insicuro Ha eliminato la pelle in eccesso chirurgicamente dopo aver provato diete, esercizio e personal trainer Auguriamo una pronta guarigione a Federico Fashion Style e lo aspettiamo più agguerrito che mai Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video